Buongiorno, sono Claudia Straserra, Vero Veritas. Presento il progetto Veritable che quest'anno porteremo al Salone. È quindi una nostra testimonianza focalizzata sul tema dell'accessibilità e della fruibilità. Di che cosa? Di luoghi, spazi, prodotti, servizi. Noi partiamo da una convinzione. Dalla convinzione che qualsiasi luogo, che sia un luogo di svago, che sia un hotel, che sia un servizio, deve essere accessibile a tutti e quindi non solo ai normodotati, ma a chiunque, indipendentemente dalla sua abilità. Abbiamo pensato quindi a un modello che abbiamo già implementato e che vorremmo condividere con tutti gli interessati, che aiuti le organizzazioni ad essere più attenti ai fabbisogni degli stakeholder e sia quindi un modello capace di interiorizzare, di portare dentro i nostri prodotti, i nostri servizi, la progettazione dei nostri luoghi, i fabbisogni degli stakeholder, in modo che veramente chiunque possa entrare in un hotel, in un museo, possa beneficiare di un'esperienza positiva, indipendentemente dalla sua condizione. Pensiamo quindi a un mondo in cui la persona disabile, così come il normodotato, abbiano pare condizioni per poter beneficiare di prodotti, di servizi, di opportunità e pensiamo quindi che il nostro modello aiuti a farsi le domande giuste e a trovare le risposte giuste con l'aiuto degli stakeholder. Vi aspettiamo dunque al Salone per condividere con voi queste riflessioni.